800 posti letto circa, con un buon indice di riempimento, fa sapere Confcommercio. Alcuni alberghi registrano già il tutto esaurito e a breve riaprirà anche lo storico Hotel Nevada. La stagione estiva a Tarvisio si apre sotto buoni auspici, dopo due anni durissimi causa pandemia. A trainare la ripresa il cicloturismo, con l'Alpe Adria sempre più frequentata, in particolare da tedeschi e austriaci, qualche italiano nel weekend. Cominciano ad arrivare anche turisti dai Paesi Bassi, ci dice Francesco Baraldo, dell'Hotel Tarvisio e qualche americano. La nostra unica opzione per il futuro estivo è il motore trainante, penso che sia gran parte del PIL, chiamiamolo così, della nostra valle dai primi di maggio fino a metà settembre, senza sarebbe tutto molto più difficile. E cosa si può migliorare? Solo un po' più di manutenzione, un po' più di informazioni, poi per il resto è un po' che Erdassi ha proprio servito. Una sosta di una notte per poi riprendere un viaggio a tappe già ben programmato. Cercano il contatto con la natura incontaminata, la tranquillità e il relax i turisti della Val Canale Canal del Ferro, per soggiorni più lunghi, gettonatissimi, gli chalet di montagna. Sabina Moloro, dell'Alpi Giulie Chalet Resort di Malborghetto Valbruna. Diciamo che fino a fine settembre siamo al completo, quindi siamo molto soddisfatti. Prevalentemente clientela italiana, post-covid abbiamo avuto un maggiore riscontro a livello friulano. Adesso pian pianino stanno tornando anche gli stranieri, quindi abbiamo avuto ospiti dalla Norvegia, ospiti austriaci. La stagione sta ripartendo, ma forse un po' con il freno tirato? Io ho constatato un ritardo nelle aperture delle varie strutture, quali agriturismi, malghe, rifugi, rispetto agli altri anni. Un po' può essere stato complice il freddo prolungato, però noto un po' di ritardo anche la telecabina del Monte Lussari, che è una delle nostre attrattive principali, hanno deciso di farla ripartire appena questo weekend, quindi questo non favorisce.